Avanti tutta per la Fano Grosseto, lunedì 7 dicembre il vice ministro all'infrastruttura e ai trasporti Riccardo Nincini sarà alla sala San Michele di Viarco d'Augusto per presentare il progetto esecutivo della grande opera incompiuta del centro Italia, la strada dei due mari definita da sempre un importante asse strategico di collegamento. All'incontro che avrà inizio alle ore 15 parteciperanno la direzione di Anas, la senatrice Camilla Fabri e i rappresentanti della regione Marche, della provincia di Pesore Urbino e del comune di Fano. Il nuovo presidente Ceriscioli quando incontrò tutti i sindici della provincia annunciò che la Fano Grosseto veniva accantonata perché in realtà tutto quello che era stato annunciato non corrispondeva a verità. Io mi sono sollevato e onestamente mi sono subito adoperato anche con il vice ministro Nincini che si era sempre speso per la Fano Grosseto e effettivamente così è stato. Hanno rimesso in discussione il tutto con un grande risultato che si è accantonato il discorso del project finanzi dove si prevedeva il pedaggio. Sono state previste un intervento di un miliardo di euro per l'intervento dei tratti mancanti nella nostra parte della Fano Grosseto con degli step che devono concludersi nel 2020. Primo step di 270 milioni, cifre già individuate, con non più il pedaggio. E questo è un grande risultato, prosegue Seri, soddisfatto di tutti gli obiettivi raggiunti finora. Un bel momento e un'altra risposta che noi diamo al territorio.